Sempre corrado, sempre acceso, sempre il mio, lascia la sopra accesa, il nostro. Dicevo che qualcuno si è emozionato, pensate, io ho contato le 20 tracce di questo CD. Era il 1999, quando questi ragazzini della scuola media hanno avuto così una bellissima idea, quella di omaggiare un grande cantautore, un grande artista della musica italiana, come il pubblico di Andrei, appunto, unendo le forze. E pensate, hanno realizzato circa 90 concerti in tutta l'isola. Ed erano adolescenti, erano piatto vittichetto, giovanissimi. Quindi dal 99 al 2004. E qualcuno di loro non si è fermato lì. Perché, pensate, e oggi abbiamo il piacere di averlo con noi, guardate un po' la batteria che c'è. Alla batteria c'è Roberto Migoni. Roberto Migoni, insegnante di batteria JET presso il conservatorio di Piacenza. E alla tromba, invece, abbiamo Matteo Cogoni, trombettista dell'Orchestra Teatro Lirico di Cagliari. Non c'è a casa. Lo salutiamo come se fosse con noi. E al piano tastiere Maurizio Bizzarro, pianista con svariate band, Maria Giovanna Certi e altro. Ciao Maurizio. Per me, tra l'altro, è specialissimo rivederli. Tantissimi di loro, come me, non ci si vede, non dico da quegli anni, ma quasi. Perciò, anche per noi, essere tra noi, essere con voi e con i ragazzi, che attualmente sono nella scuola, è un'emozione pazzesca stasera. Poi salutiamo, pensate, da Vienna, da Vienna dove abita. Venuta da Vienna, per questa serata specialissima. Laura. Ciao Laura, benvenuta. Che poi Laura suonava il contrabbasso, se non ricordo male, vero? Ehi, un grande, un grande, per me è un grande, un grandissimo. Diego Urtu. Un grande, Diego, il violino. Stefano Corda. Giorgia Corda e Violetta Cogoni al piano. Un omaggio a Fabrizio De Andrini. Canzone dell'amore perduto. Un omaggio a Fabrizio De Andrini. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.